Dopo 70 anni torna a rivivere la fontana Carpino della Pila, una delle fontane del re che costeggiavano l'acquareggia delle Puglie, snodo fondamentale per il mercato del grano fra Napoli e Bari. La fontana fu edificata da Carlo III di Borbone per donare ristore ai miandanti esausti e ai loro animali. Il recupero del monumento si deve invece all'impegno profuso dall'Aspi che con il presidente Raffaele Grasso e il sostegno economico dell'amministrazione comunale ha ridonato questo monumento alla cittadinanza. Era infatti presente il sindaco Gambacorta che ha presenziato al bagno di folla che ha accolto la rinascita della fontana Carpino della Pila.